Assessore Babuder ha raccolto gli esausti, si parte da qui di fronte a Villa Revoltella, poi altri 21 punti oltre a questo, 22 in tutto, dove verranno piazzati questi nuovi cassonetti. Io dico finalmente, abbiamo vinto una scommessa congiuntamente al gestore del sistema di raccolta, agli uffici dell'igiene urbana, offriamo un servizio nuovo, la prima volta nella città di Trieste, che è stato sempre molto richiesto, io ricordo ancora da una decina d'anni le emozioni, dalle circoscrizioni al Consiglio Comunale e anche alle sollecitazioni dei residenti, per cui una nuova opportunità con l'auspicio che oltre a quelli che sono i sistemi in cui si è deciso di installare le postazioni per la raccolta, vi sia anche un corretto conferimento, quindi come possiamo vedere una bottiglia o un involucro di plastica all'interno dei contenitori. È vietato di versarli, si spera che non vengano utilizzati dei materiali come il vetro perché potrebbero rompersi e quindi disperdere il contenuto e ricicliamo anche un po' di materiale plastico.